Sia chiara una cosa, senza internet ormai il mondo non potrebbe più funzionare. Come scrive l'autore di questo libro che tra un attimo vi presento, ormai la situazione è tale che non riusciremo a stare senza la rete. L'umanità avrebbe enormi problemi di connessione, di trasporto aereo e terrestre, problemi sanitari e di approvvigionamento energetico, di sicurezza eccetera eccetera. Quindi con internet bisogna convivere, d'altra parte i suoi vantaggi sono evidenti e risperimentiamo tutti quelli che lavorano. Questo libro, manuale di disobbedienza digitale, scritto da Nicola Zamperini che è un consulente per le strategie digitali di grandi aziende, quindi è uno che ha le mani in pasta per così dire, ci svela però e ci insegna a sfuggire ai principali rischi e pericoli che la connessione ad internet comporta. Il libro si divide in tre parti, ve lo voglio dire perché è molto ben organizzato proprio dal punto di vista strutturale. Nella prima si presentano alcuni elementi di base per orientarsi nella rete. Nella seconda ci sono descritte le qualità che ci rendono umani e che stiamo via via regalando, delegando alle macchine. Nella terza infine ci sono una serie di consigli pratici, ve ne leggerò alcuni che sono anche divertenti, per sfuggire alle trappole della rete. Ora si parte da una constatazione che noi siamo tutti preda degli algoritmi e che cosa sono gli algoritmi? Sono formule matematiche complesse e segrete di cui conosciamo solo gli elementi che i proprietari decidono di farci conoscere. Questa è la prima cosa, l'abbiamo visto di recente anche con lo scandalo famoso di Cambridge Analytica, quali cessioni di identità possono avvenire. Una delle notizie consolanti nell'ottica del libro è per esempio che gli algoritmi non sono in grado di tradurre come si deve per ora l'Ulisse di Joyce, non colgono, non sono in grado di cogliere l'elemento di geniale follia che è la radice di una delle costruzioni più mirabili dell'ingegno umano, così come non riuscirebbero a tradurre la Divina Commedia di Dante. Salto alla parte delle emozioni e vero direttamente alla serie dei consigli pratici, dicevo prima alcuni divertenti, che l'autore ci dà per sfuggire alle trappole della rete. Per esempio, quando vi scrivete a un social network o rete sociale, fornite sempre informazioni false, non dite a Facebook i nomi dei vostri familiari, tenete lo smartphone lontano da voi almeno due ore al giorno, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a un consiglio in positivo, comprate libri di carta, comprate libri di carta in una libreria. Questo per sfuggire alle trappole più frequenti della rete.